Combinare riforme strutturali a una politica monetaria e una politica economica sostanzialmente pro-ciclica, cioè restrittiva, non può che portare a quello che è accaduto, cioè al fatto che noi abbiamo il continente che cresce quando cresce, e non è questo neanche il periodo in cui ciò accade, meno di qualunque altra area economica del mondo.